Turno di campionato con tre big match, il Milan a Roma contro i giallorossi, poi c'è l'Inter contro la Fiorentina, c'è la Lazio contro il Napoli, ma partiamo proprio da Roma-Milan per dire due parole sulle dichiarazioni della vigilia o sulle non dichiarazioni e sul contesto, in particolare quello romanista che avvicina alla gara e che la prepara. Le non dichiarazioni sono quelle di Murigno che dopo le prime due giornate di campionato da squalificato tornerà in panchina ma non ha fatto conferenza stampa, probabilmente per evitare di accavallarsi con le primissime dichiarazioni di Romelu Lukaku come nuovo giocatore giallorosso che è stato presentato appunto con intervista, con foto attesissima con il Colosseo sullo sfondo, le foto con la maglia, la bandiera e tutto quanto. Oppure maliziando possiamo pensare che Murigno non abbia rilasciato dichiarazioni visto il momento di risultati negativi pur con prestazioni a tratti convincenti e perché magari non aveva nulla da recriminare questa volta preventivamente contro l'arbitro. O forse per evitare alla vigilia della chiusura del calcio mercato di tirare qualche altra sferzata ad una diligenza che comunque l'ha sempre accontentato, non dimenticando quanto guadagna lo Special One e quindi quanto dovrebbe creare valore per la sua Roma. Pioli invece ha parlato, non ha parlato di mercato, ha parlato del rendimento dei suoi giocatori, di chi è più in forma, di chi è meno in forma, di chi sta rispettando le aspettative e poi appunto ha parlato di questa partita anche se le domande sono state ben poco sul campo e sul calcio e ha detto che bisognerà essere aggressivi senza palla ma fare attenzione perché la Roma che non si sa come giocherà dice Pioli anche se noi ci arriviamo preparati ha detto è una squadra assolutamente da non sottovalutare e che anzi ripeto sta facendo anche a tratti un calcio interessante e un po' diverso rispetto alla passata stagione. Pioli ha cercato anche di abbassare la tensione, cioè non ci sarà Dybala, non si sa quanti minuti farà in campo Lukaku ma tutta questa attenzione mediatica che è il tema principale di questo video dice Pioli non ci deve disturbare, non ci deve distrarre perché la Roma è forte anche senza Dybala e Lukaku. Ma e la domanda è questa, non si starà un po' esagerando alla vigilia di questa gara con i titoli delle prime pagine, con gli articoli post sui social, con le foto, con tutta questa attenzione spasmodica non tanto rispetto alla partita ma proprio rispetto alla presentazione di Lukaku che avverrà prima della gara alle 19.30 in un olimpico che evidentemente sarà già gremito. Ci sta assolutamente presentare Lukaku nella migliore maniera possibile, nella maniera più entusiastica e più trionfalistica, va benissimo, su questo non esprimo alcun giudizio. Sono anche scelte commerciali della società evidentemente, ma credo che alla fine quello che conta sia il campo per cui quasi quasi mi viene da sperare, non prendetemi per cattivo e insomma abbiate bontà, che la Roma fallisca il colpo, non dico che perda ma magari che non riesca a vincere. In che senso? Nel senso che distrarsi così tanto per l'arrivo roboante di un calciatore, dimenticando che poi quel calciatore deve semplicemente allenarsi bene, scendere in campo e fare delle ottime prestazioni, può portare quasi ad una sconfitto, ad una non vittoria educativa, cioè di quelle che era meglio se ti concentravi sulla partita evitando tutte queste distrazioni e tutto questo entusiasmo, perché poi quello che conta sono solo i 90 minuti. Poi i tifosi magari possono distrarsi su quello che vogliono, anzi farsi trasportare anche dalla bellezza, perché c'è bellezza anche in questo, del rinforzo per la loro squadra, che in questo caso è Lukaku. L'importante è che non si distraggano e non si facciano trascinare troppo dall'entusiasmo i giocatori, l'allenatore e lo staff, e cioè che la partita sarà preparata e sia stata preparata nel miglior dei modi contro un Milan che in questo momento sta facendo il miglior calcio della Serie A. Però ecco, tornando al discorso della non vittoria o della sconfitta educativa e dimostrativa, sì, diciamo che forse sarebbe meglio nell'interesse dei tifosi della Roma e della Roma stessa non vincere, così da dare una lezione sul fatto che prima di una partita bisogna concentrarsi sulla partita senza trionfalismi preventivi e senza troppa carica emotiva, rimanendo un po' più a profilo basso, moderati e concreti. D'altra parte lo stesso Lukaku nella sua prima intervista da Giallorosso ha detto la cosa importante è tenere testa bassa e lavorare duro tutti i giorni. Quindi meglio per la Roma non vincere. Lo so che questo messaggio sarà in viso e ben poco accettato da parte della maggioranza e soprattutto da parte dei tifosi della Roma, ma c'è un motivo appunto e cioè puntare alla qualità, puntare alla concretezza, puntare all'impegno che ti porta poi a meritare senza entusiasmarsi troppo prima di avere davvero vinto. Grazie a tutti.